Allora, per prima cosa dobbiamo finire di dimostrare la sguaglianza di Elger che allora io prendo una F che sia in Lp mu di x e G che sia in Lq mu di x 1 su P più 1 su Q fa 1 P e Q compresi tra il caso più uguale a 1 e Q uguale più infinito o viceversa lo potete fare tranquillamente a parte il caso è semplice. Allora, se vi ricordate l'altra volta noi abbiamo dimostrato questa disuguaglianza qui AB, diciamo che A e P sono due numeri positivi AB minore uguale a 1 su P alla P più 1 su Q di A alla Q e questo l'avevamo dimostrato tramite Jensen. Allora, andiamo a fare l'integrale su x di F su norma F P per Q frazzo norma F per Q in Lq dove norma F P non è altro che l'integrale su x diretti di x alla P quindi del mu alla 1 su C e norma F P non è altro che l'integrale su x di F di x su norma F in Lq e norma G e l'integrale su x di F di x su norma F in Lq alla Q in Lq e ci mettiamo un bel valore assoluto quindi valore assoluto quello del prodotto, il prodotto di valore assoluto è la stessa cosa a questo punto questo è un numero positivo A e questo è un numero positivo B quindi tutto questo è minore uguale di 1 su P a alla P chi è a alla P? a alla P non è altro che l'integrale su x del valore assoluto di F a alla P quindi del mu tutto quanto diviso la norma di F P a alla P più o per meglio dire cioè io la disuguaglianza prima faccio la disuguaglianza e poi l'integro su x è ovvio questo questo è minore uguale di questo a alla P su P fratto questo a alla P e poi l'integrale su x e poi l'integrale su x a alla P similmente dall'altra parte 1 su Q poi qua abbiamo l'integrale su x modulo di g a alla P a alla P grazie a 9 a G alla P però potete notare che queste due quantità fanno 1 e questo è esattamente qua così quando io levo alla P quindi questo fa 1 questo fa 1 1 su P più 1 su Q oppure fa 1 e quindi qua mi viene 1 beh, siccome questi sono numeri io riporto dall'altra parte quindi ottengo che l'integrale su x del valore assoluto di F di x g di x in del mu è minore uguale i numeri si possono portare fuori dall'integrale della norma di F in L e P per la norma di G in L e Q ma questa qua che sta scritta a sinistra non è altro che la norma di F per G in L e 1 o io ho scritto 1 P Q per brevità per esempio dovrei scrivere L 1 Q di x L P Q di x e questa è la formazione quindi era il grosso lo avevamo fatto semplicemente non ci mancava la soluzione o va bene a questo punto a questo punto voglio fare ancora un po' di osservazioni prima di passare alla trasformata di F qui allora facciamo un attimo un riapito noi che abbiamo visto quest'anno abbiamo visto un pochino di teoria delle funzioni di variabile di una variabile complessa e poi abbiamo visto diciamo questo chiamiamolo la prosecuzione di quello che abbiamo visto in analisi 2 che si chiama analisi 2 un pochettino perché l'abbiamo siamo andati a vederla perché alcuni dei risultati che abbiamo dato in analisi 2 a parte che molte cose non le abbiamo potuto dimostrare non avendo il tempo però per prima cosa abbiamo voluto dare alcuni elementi appunto della teoria della misura moderna e in particolare parlare della misura di del pelle sulla penne perché a voi serve e dare un'idea abbastanza precisa di come questa teoria noi diciamo all'inizio richieda un lavoro un pochettino più diciamo col fondo questo le misure in particolare le misure di del pelle sono numerabilmente aditiva in cui il pelle ha altre proprietà ad esempio in variante di tutazione in variante di tutazione ehm ed essendo numerabilmente aditiva questo per esempio ci ha fatto ci ha condotto a dimostrare il chiaramente il pelle se tu hai una convergenza dominata quello vale per il valutio di su se tu hai una convergenza quasi un ehm diciamo dominata in modo la funzione l1 puoi passare all'inizio possibile adesso sia pure un po' velocemente che non possiamo ridurre tutta sta violina però andiamo a rivisitare alcune cose alcuni teoremi che tra l'altro vorrebbero più semplici che tra l'altro allora quello che fa il primo più ci servirà sono gli integrali dipendenti a un banale grazie allora facciamolo nell'ambito della misura di lettere allora qual'è la situazione? la situazione è che noi abbiamo x t non sono due varianti sono due gruppi di varianti quindi chiamiamo x uguale x 1 x n x e j la sposto i i vettori si dovrebbero mettere Tk però è praticamente al dinamico con T uguale T1 Tk questo sta in Rn e questo sta in Rk poi una cosa che non abbiamo detto supponiamo di avere lo spazio di misura x sigma mu quindi mi interrompo poi prendiamo insieme e misurabile che cosa si intende quando io scrivo l'integrale su E di f di x in mu questo l'avete tutti però non l'abbiamo mai detto che cos'è questo non è altro per definizione che l'integrale su tutto x di f è la nozione caratteristica di E cioè io metto la funzione di F la motivio per 1 su E 0 fu naturalmente si può fare quando l'insieme E appartiene a sigma perché si può fare quando l'insieme E appartiene a sigma perché così questa funzione è misurabile questa è misurabile però è più di più di più di più di più di più di più la funzione è misurabile poi naturalmente con le solide regole che noi in genere cerchiamo almeno solo il funzione di L2 ok questo in genere va bene adesso io qui ho vabbè visto che bisogna interrotto finisco supponete che F sia una funzione maggiore o uguale di 0 diciamo F di x maggiore o uguale di 0 per 4 ogni x appartemente a E e supponete che l'integrale su E così questa osservazione qua chiarisce molto bene il discorso di perché le funzioni sono definite a meno l'insieme di misura supponete che l'integrale su E di F di x in D mu faccia 0 allora l'insieme degli x appartenenti a D tali che F di x è il diverso da 0 a misura 0 questo implica vabbè se è solo sì però la funzione deve essere positiva e ovviamente prendo la funzione x tra meno 1 e 1 l'integrale viene 0 ma mica la funzione 0 allora questa implicazione è banale perché se la funzione è nulla quasi ovunque è l'integrale a 0 è l'integrale a 0 beh questa è la definizione andiamo a prendere io chiamo E con N uguale l'insieme degli x appartenenti a E tali che Fx è maggiore di 1 su N allora è chiaro che la misura di E con N deve fare 0 perché se fosse diversa da 0 l'integrale di F è maggiore della misura di questi insieme per 1 su N ma siccome io so che l'integrale di F va a 0 è possibile e chi è l'unione degli E con N se questo insieme qua lo chiamiamo questo insieme qua lo chiamiamo L L è uguale all'unione per N che fa da 1 a un infinito degli E con N che ovviamente noi sappiamo che è maggiore uguale a 0 per S diverso da 0 F di x dovrà essere maggiore di 1 su N quindi per ogni per ogni x in cui la funzione è maggiore di 0 x appartiene a 1 di questi E con N quindi all'x appartiene a L appartiene a 4 di questi E con N viceversa quindi questo è banale e allora che cosa succede che questi sono tutti hanno misura a 1 questa è una successione crescente di insieme come è già L la misura passa a lì sulla successione crescente di insieme della misura di N altro non possiamo dire perché ci possono stare un po' di punti il problema è che gli insiemi di insieme a 1 possono essere abbastanza schifosetti quindi ci può stare anche un insieme un po' brutto per esempio tutti i razionali se stiamo parlando di misura di R i razionali sui razionali la musica fa 1 l'altro la musica fa 0 l'integra fa 0 ok? quindi questa è una osservazione fatta in generale torniamo alle nostre le nostre integrate che è meglio di amparare che significa? io ho due gruppi di variabili poi ho una funzione f che è definita in x e t ok? f di x e t f di x t ha valori nero ok? o questa parte della teoria viene molto meglio diciamo usando la misura che è usando la la misura di piano gioco perché noi cosa diciamo? facciamo quest'ipotesi che la funzione che ha x associa f di x t è è misurabile rispetto alla misura la misura del bag si indica con mn o dx in questo caso dx e x è misurabile per ogni valore t appartenente ad a allora dove variano x? in realtà questo lo mettiamo in e e con denomini rn e è misurabile insieme misurabile rispetto alla misura del bag questo lo mettiamo in A A è un insieme aperto ed è contenuto in R essendo aperto sicuramente misurabile rispetto alla misura del bag e invece vogliamo per esempio che tf di xt e qua poi a seconda dei casi metteremo le varie forze per esempio continua per quasi ogni x appartenente ad qual è il discorso? che ci vogliamo fare a noi? poi mettiamo un'ulteriore ipotesi f di x t è minore o uguale di g di x con integrale su e di g di x e di x finito quindi queste sono uniformemente dominate rispetto a t dal g ok? c'è che serve ci sono e qua è il discorso allora andiamo a vedere noi possiamo fare vediamo un po' possiamo andare a calcolare questa funzione possiamo andare a calcolare? beh io direi proprio di sì perché la possiamo andare a calcolare? fissato t a questa qua ovviamente per ogni t è per quasi ogni x questa però ogni t è la funzione è misurata se la prendi un valore assoluto è più piccolo di una funzione l1 e quindi l1 quindi questo valore si può cambiare sempre non una volta una volta sì una volta no qua non è quasi ovunque questa funzione è definita e d per ogni t ok? allora l'idea è qual'è? l'idea è che io integro nelle variabili dove posso integrare e quello che mi rimane avrà le stesse ipotesi da cui sono partito cioè quello che voglio sapere è che questa è continua in a ok? ok allora dimostrare che questo è continuo in a è facile allora come si fa? innanzitutto siamo in un'apertura tutti i punti sono di accumulazione come si fa? allora ricordate che sono vettorie quindi io prendo una successione gli indici di coordinata l'ho messo in alto eh gli indici li metto prendo un mentone particolare chiamo t0 t0 lo metto in basso perché tanto sicuramente non è un indice di coordinata le coordinate partono da uno questo è un elemento di a allora io cosa devo dimostrare che f di t certo non mi piace questa notazione però in questo momento non ne trovo un'altra di più f di t j se dimostro che f di t j converge f di t 0 e j che prende infinito cosa dimostro? dimostro che la funzione f continua sulle successioni però se vi ricordate il teorema punto continua sulle successioni può dire continua il limite su tutte le successioni è quello che ha il limite su z ok quindi questa è la dimostrazione per meglio dire non ho ancora dimostrato niente devo dimostrare che se una successione di t con j è f di t con 0 f di t con j converge a f di t con 0 ma f di t con j f di t con j è uguale all'integrale su e di f x in d x d x qua stiamo rispetto alle misure di Lebeck d x è la misura di Lebeck in Rn e d t sarà la misura di Lebeck in Rn d x poi se dovete fare veramente tutti gli integrati non è altro che d x 1 d x 2 d x 6 poi lo richiamiamo anche questo perché l'integrale rispetto alla misura di Lebeck n dimensionale non si fa altro che facendo l'integrale di Tera sotto certi pozzi allora noi vogliamo che questo converga all'integrale di f di x di 0 in d x ma queste funzioni qua non sono altro che delle funzioni che io posso chiamare t con j di x e questa funzione qua è una funzione che io posso chiamare t con j la successione è fissata cosa posso dire in queste funzioni beh io so che la f piccola è continua quindi questa qui converge a questa dappertutto no per quasi ogni x appartenente ma poi posso anche dire che f con j di x in valore assoluto è sempre più piccola di g di x questo è davvero sempre no? se qua ci metto f con j quindi posso concludere che quando j tende a più infinito questo tende a questo che tiarema devo invocare? convergenza dominante questo converge puntualmente è dominante chi della storia? vedete quanto è potente? sì certo la costruzione è un attimo laboriosa ma in realtà sto tearema è molto più potente di quello che puoi fare con la con l'integrata di i tu sai che non affinare una funzione che è continua nel secondo gruppo di variabili misurabile ed l u uniformemente diciamo equi l1 cioè dominata dalla stessa funzione l1 nel primo gruppo di variabili quando vai in integra rispetto a x tu su x ci integri su un insieme e quello è una funzione continua dall'altra l'altra l'altra va bene secondo voi se io voglio che la funzione f sia di classe per esempio c1 che devo aggiungere come ipotesi innanzitutto questa deve essere di classe c1 ok adesso cancelliamo che siamo parlando per poi spiegare la tesi questo è c1 perché se no non posso veri qual è devo aggiungere delle ipotesi la aggiungo qua e che altre ipotesi dovrò aggiungere secondo voi innanzitutto io cosa vorrò come si farà secondo voi la derivata questo è quello che voglio certamente non sto andando in ordine non sto mettendo prima quello che voglio e poi ci metto le ipotesi che mi serve ma secondo voi come si farà la derivata rispetto questo è un gruppo di varianti una funzione di più varianti per essere c1 non ho bisogno per il treno differenziale totale sicuramente è sufficiente che la funzione sia derivabile parzialmente rispetto a ogni piccola e poi bisogna che queste funzioni siano scelte innanzitutto la derivata come si farà secondo voi come si fa come la fa quando la vedete sotto di segno integrale quindi dovrà essere integrale di f in d t con h di x in d x o ma allora secondo voi le derivate le posso fare perché abbiamo detto che questa funzione è di classe c1 ma per poter dire che queste derivate all'ora rotta sono continue cioè per poter calcolare le derivate e poter poi dire che queste derivate sono continue quindi ma secondo voi che ci vuole è Noi, noi, noi. Chiamami, non è la condizione necessaria, però è sufficiente. Cioè ci vuole che come la funzione la maggioro con g, pure le derivate parziali le devo maggiore proprio con g. Ma non ci posso mettere altre funzioni? È uguale. Siccome siamo un numero finito di funzioni, se invece di fare g fai g e poi c'è altre funzioni, g1, g2, gd, prendi il massimo di queste funzioni e la chiami g, cioè non è restrittivo supporre che la maggiorante sia ostris. Allora l'importante è l'uniformità, cioè quindi per ogni h uguale a 1k, che vada a 1k, cioè potrei pure rimuovere queste cose, prendere una g diversa per ogni h. Quello che però è importante è che la g sia la stessa per ogni h, per ogni h. Sapete? Quella è questa equilimitatezza di quelle funzioni rispetto a h. Allora, cominciamo a vedere che chi è la derivata di f rispetto alla variabile t con a, h calcolato nel punto t con 0, del vettore t con 0. Questo non è altro che il limite, se vi ricordate, per, diciamo, chiamiamolo s che tende a 0, di f di t con 0 più s e con h meno f di t con 0 fratto s. Questa non è altro che la derivata direzionale rispetto a quale direzione? La derivata parziale è la derivata direzionale rispetto alla direzione anch'esima dell'ora. del vettore anch'esimo era abbastanza. Quindi, io devo fare questo limite per s che tende a 0, di che cosa? integrato su e di f di x t con 0 più s e con h meno f di x t con 0 fratto s, in d x, in d x, o no? Allora, qua bisogna sempre fare il storio discorso. io prendo una qualunque successione SJ allora noi usiamo la H per le variabili e la J per gli indici di successione così non ci compagliamo prendiamo una SJ che tende a 0 allora qua ci metto SJ qua ci metto J che tende a infinito J che tende a infinito qui ci metto SJ e qui ci metto SJ ok? allora queste qua sono di nuovo delle funzioni di figo J di X T con 0 è fissato SJ quando J è fissato è fissato queste sono delle funzioni di figo J di X ma questa funzione qua beh, se vi ricordate a chi è uguale sono delle funzioni misurabili certo che sono funzioni misurabili questo è misurabile questo è misurabile diviso SJ che è una costante misurabile quindi a me non devo provare nulla per quanto riguarda l'integrale devo provare però che l'integrale se lo fa viene finito ma questa qua punto per punto nel gruppo nel secondo gruppo di variabili a chi è uguale? non è uguale esattamente alla derivata parziale di F rispetto a T con H calcolato in X T con 0 più XI e con H dove XI in valore assoluto è minore di SG dove XI in valore assoluto è minore di valore assoluto di SG cioè XI è compreso tra 0 e SG o tra SG è 0 SG io ne so se è positivo o negativo sta andando a 0 però in un 1 intervento io applico la grazia quindi la differenza io mi sto spostando in da T con 0 secondo una certa direzione di SG la differenza del valore assoluto di F nel valore assoluto di F uguale all'incremento che poi se ne va con l'incremento sotto per il valore della derivata parziale in un 1 intervento ok ma questa e quindi cosa posso dire? posso dire che FJ la dipendenza da J dove sta? sta nascosta qua dentro ecco perché XI dipende da SG FJ di X in valore assoluto posso dire che è minore di G di X eccetto perché questa derivata qualunque sia il punto dove viene calcolata è minore di G di X ora che cosa a chi converge questo quando J rende a più infinito? beh le derivate parziali quando J rende a più infinito se J rende a 0 anche XI rende a 0 e allora siccome so che le derivate parziali sono continue rispetto alla seconda variabile questo mi converge all'integrale scusate mi converge FJ mi converge alla derivata parziale di F rispetto a P con H calcolato in X P con 0 e gli integrali a chi convergono? il teorema della convergenza dominata queste convergono a queste puntualmente sono tutte dominate alla stessa funzione convergono l'integrale su E in X e quindi cosa ho dimostrato? questa è la derivata parziale di F rispetto a T calcolato con 0 quindi ho dimostrato la formula per la derivazione rispetto a T ho dimostrato la formula per le derivazioni parziali della F ma una volta che ho dimostrato la formula per le derivazioni parziali della F io cosa so? che queste derivate parziali sono uguali integrati a queste derivate parziali ma queste derivate parziali sono funzioni continue sono tutte maggiorate dalla G in modo che il teorema di prima pure queste sono funzioni cioè sono continue rispetto alla T e la X no? però qua ci indegno sopra la X è quello che rimanda per il teorema di prima una funzione quindi queste sono tutte funzioni continue quindi F quindi questa è C0 di A vabbè questo è un numero da F in G di A valvolato in G è una funzione C0 di A e quindi F è diviso C1 di A fine della trasmissione ovviamente questo passaggio mi diceva che quel limite di prima esiste perché questo qua questo discorso vale per ogni SG che tende a rispondare la solita invocazione che abbiamo avuto perché se io faccio il limite solo su una successione S con J so che il limite se esiste devo fare questo ma non so se esiste in realtà il limite esiste perché questo vale per ogni SG che commette a 0 cioè io ho detto soltanto SG commetteva a 0 ma non ho detto altro la cosa funziona sempre quindi per il teorema punto di analisi 1 la cosa funziona quindi capisco che voi dici vabbè no questo è abbastanza intricato questo teorema e che non avete visto quello di sulla teoria di Lima è altrettanto un tecato non solo ma devi mettere delle ipotesi più pesanti per ottenere lo stesso risultato cioè è vero con la teoria di Le Beppe c'hai delle problemate che relativi al fatto che devi garantire certe cose per esempio al minimo la misurabilità perché se non puoi fare l'integrale devi garantire che ne so la equilibrillatezza per se vuoi applicare il treno da convergenza ordinato che si fa anche qua e poi te la devi cavare e fare dei ragionamenti devi dimostrare che in questi casi devi avere a che fare con serie unioni numerabili e quant'altro ma se tu vuoi fare le cose secondo Lima te la cavi molto peggio perché non hai l'attività numerabile non puoi passare così al limite come facciamo qua grazie a tenere la convergenza dominata e il passaggio al limite sull'intusione integrale o c'ha la convergenza uniforme o ti deve arrangiare caso per caso quindi le ipotesi che devi andare a mettere per ottenere il stesso limite di risultato sono molto ma molto più pesanti qua invece abbiamo saputo due risultati fondamentali cioè praticamente cosa stiamo dicendo stiamo dicendo punto da ritenere di tutta questa situazione qual è? è noi abbiamo una fusione f piccolo che ha due gruppi di variante in uno è misurato per ogni per quasi ogni per ogni t perché quando io esprimo le cose in x x ci devo fare è misurabile ci devo fare l'integrale quindi va bene quasi ogni quando esprimo le cose in t continuo c1 quello che volete s per ogni quindi questa è misurabile in x per ogni t dall'altra parte è continua in t per quale x anche per quasi ogni quello non mi interessa perché tra l'altro l'acido è un integrale super chiaro e quindi continuo c1 quello che vuole se è continuo questo è continuo se è c1 nel gruppo di variabili questo è c1 e come si fa tra l'altro si ingerla abbiamo fatto i 20 minuti per esempio se lo fai con l'inimo ce ne metti 40 e ci devi mettere il corso più pesante quindi in realtà la misura direbbe che è un ottimo investimento dove si usava questo teorema questo teorema si usava da un sacco di parti ma dove si usava e quindi ma per esempio vediamo che risulta 5 giusto una stanza e no la trasformata in differenza è un bene domani però se io scrivo f cappuccio di t uguale all'integrale da meno infinito a più infinito di f di x e alla meno i x t di x allora vediamo un po' innanzitutto cominciamo a vedere quando si può passare l'integrale almeno con partenza poi vedremo che questa cosa la trasformata la possiamo definire in situazioni molto più generale dovremmo fare degli slalom un caso in cui sicuramente questo si può definire questo che cos'è non è l'integrale di una funzione che diventa da due variabili che sto integrando in dx questa qua se questa invece di f la chiami a e questa la chiami f di x t non è una funzione di due variabili allora questa funzione se la voglio maggiorare allora uno per prima cosa dice ma questa i questa è un'integrale di variabile complessa no 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 questa è un'integrale di variabile quando io integro questa variabile complessa no è reale x e t è stato in error allora questo che significa ebbè significa coseno di meno x t più i seno di meno x no quindi coseno di x t meno x ok ma allora quindi questa funzione parte da r e arriva in c ma perché arriva in c perché c'è la due componente c'è la parte reale la parte immaginata è una cosa semplice ma se io questa funzione in modulo la voglio maggiorare è quella con tutta questa parte qui cosa posso dire posso dire che questo è meno uguale di questo no perché il modulo di questo per modulo di questo il modulo di questo fa uno no perché perché l'esponenziale è un numero immaginario e quindi cosa posso dire di questa funzione cosa posso dire questa funzione eh? domina le integrali sono dominate diciamo indipendentemente da t e quindi posso dire che quando è finita? quando è dominante la funzione dominante dove deve stare? ecco allora se f stai nel nero questa qua è finita questo qua è un numero reale poi cosa posso dire cosa posso dire di questa funzione gratis che posso dire questa funzione pensate a quello che abbiamo detto 5 anni fa se no non è un giocenso non lo facevo com'è questa rispetto alla t se io fisso x questo è un valore è continuo no e allora questa qua è continuo questo ci abbiamo gratis da quello che abbiamo detto prima posso dire che è c1 eh no fe 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 allora questo funziona di una variabile la derivata supponiamo che valga ma come si dovrà fare sotto il segno di derivata quindi verrà l'integrale da meno infinito a più infinito di che cosa? di meno i x f di x e alla meno i x t non è t o no e sto derivando rispetto a t se derivo rispetto a t questa è la costante qua mi scende meno i x e allora questa qua esiste e continua ma c'è una condizione che dobbiamo mettere quale sarà questa condizione? che x f di x va bene stia in L1 xf perché il resto è i che non c'è modulo 1 e questo che c'è modulo 2 o no? perché se questa qua sta in L1 il suo modulo mi fa da maggioranza per questi e allora queste esistono sono continue e sono derivate in questi che deriva da quello che abbiamo detto 5 minuti fa ok? quindi qua non stiamo ancora parlando di trasformanza stiamo andando soltanto alcune cose per collegarmi a quello che abbiamo detto sì la definizione è quella se f è L1 quant'è che xf è L1? potrebbe non essere L1 fatemi un esempio di una funzione che sta in L1 tale che xf non sta in L1 allora prendete la funzione 1 fratto 1 più x4 stai in L1 l'indegra 4 fa l'indegra di 1 fratto 1 più x4 la infinita a infinita fa mi credo ok? se però la moltiplico per x mi diventa la funzione x fratto 1 più x4 uno può dire no questa funzione dispera l'indegra fa 0 e fermo un'altra facciamo l'indegra da 0 a infinita chi ha la primitiva di x fratto 1 più x4 un mezzo per il logaritmo di 1 più x4 vediamo se io prendo qua x fratto 1 più x4 è uguale questa f diciamoci prima di x allora g di x è uguale al logaritmo di 1 più x4 1 fratto 1 più x4 per 2x quindi l'integrale da 0 a più finita di x fratto 1 più x4 quando fa direi che è diversa la primitiva è quel logaritmo quindi 0 vale 0 infinito non è infinito ah quindi quella la non è l1 perché l'integrale della parte positiva da 0 a infinito fa più infinita l'integrale della parte negativa fa meno infinita cioè fa più infinito pure lui meno la parte negativa è meno infinita e quindi la funzione 1 fratto 1 più x4 lei ci sta in l1 ma quando la moltiplico per x non ci sta in l1 perché non ci sta in l1? perché praticamente 1 fratto 1 più x4 il problema è infinito non scendeva abbastanza veloce velocemente quando velocemente scende come 1 su x4 quando la moltiplico per x scende velocemente come 1 su x è la nostra QNV ok? quindi la derivabilità della trasformata e la classe di continuità e derivabilità della trasformata da chi dipende? da quanto velocemente la f scende all'infinito? infinito perché qua per esempio se siamo tra meno 10 e 10 e qua io ci metto x io ci metto 10 è la stessa cosa no? xf se x è compreso da meno 10 e 10 che posso maggiorare tra meno a e meno che la posso maggiorare come mf sì mf stava in l1 sì mf sta in l1 sì quindi in ogni intervallo finito non me ne frega niente della x la x mi interessa quando andiamo verso y infinito là può fare danni la moltiplicazione per x siete d'accordo? ok allora praticamente la regolarità della trasformata dipende da quanto velocemente la f andava a 0 al ipin se andava come 1 su x quadro era solo continuo se andava come 1 su x cubo è c1 se andava come 1 su x alla quarta è c1 così via perché? perché quando se lo ripeto sul ragionamento ogni volta che faccio la derivata qua mi esce una una x in più qua no va bene uscirà meno di x ogni volta però non succede niente le altre sono costanti no comunque la cosa importante è che esce la x va bene? quindi se la f di x fosse per esempio e alla meno x quadro oppure e alla meno valore assurdo di x oppure se la f di x fosse la funzione caratteristica dell'intervallo meno 1 o 1 cosa posso dire della trasformata di qui? e è c infinito cioè che questa sia irregolare questa qua non funziona scalina non manco un d gli fa qualcosa non gli fa nulla non gli fa un baffo perché questa è continua quello che mi interessa qua è la derivabilità rispetto a t questa qua per avere la derivabilità rispetto a t di ciò che questa x per questa x quadro per questa per avere tutte le derivabilità devono stare tutti nelle 1 ma io questa è minore o uguale di 1 x x quadro x cubo per questa tra meno 1 e 1 è sempre minore o uguale di 1 e quindi sono tutte addirittura maggiorate dalla funzione 1 e quindi quella è di classe 5 quindi vedete come quando io vado a fare questo qua si chiama nucleo integrato tu c'hai f di x poi c'è una funzione h di x t integra in x e ti esce pure la funzione 2 queste tutte le tasformate hanno questo tipo di comportamento cioè un nucleo integrato che dà la funzione 1 e questo va a finire la funzione 2 ovviamente ci vuole che l'integrale si possa fare ciò che è ottimo perché ti dà delle condizioni minimali cioè sono sempre sufficienti quindi non necessarie però tu sai che se questo sai nelle 1 se tu sai che questa sta in L1 ed è nulla fuori di un intervallo quella è 5 oppure se fossi anche non nulla fuori di un intervallo ma per esempio andassi a 0 esponenzialmente di quella è la min x quadro tu quando hai la min x quadro la motivi di ben x stai in L1 certo quando la motivi di x quadro stai in L1 certo quando la motivi di x quadro stai in L1 certo in gammia i perché tu vuoi moltiplicare qualunque buon rinome tu vuoi gli amati b di x per e alla min x quadro è sicuramente in L1 e quindi anche quella stai in c'è finito va bene? ok adesso facciamo una piccola pausa grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.